Andrea Braga per MCCV con il Dottor Gentili. Qual è il pensiero diverso che deve emergere da questo festival per porre fine a una crisi che non è solo economica ma anche antropologica? Il pensiero diverso è un pensiero che supera due opposte derive. La deriva individualistica, quella del turbocapitalismo finanziario di cui parla Vitale ma anche la deriva assistenzialistica, quella dei diritti e delle tutele del rancore sociale senza doveri e senza senso civile. Quindi il vero pensiero nuovo è quello che riscopre la solidarietà sempre alleata della sussidiarietà e non scambia mai la solidarietà per l'assistenzialismo, per il salvataggio di aziende decotte e non scambia mai la sussidiarietà per farsi i cavoli propri. Secondo lei i giovani possono essere una risorsa in più per il paese che è in crisi? I giovani sono una grande risorsa a tre condizioni, se sono disposti a fare sacrifici perché senza sacrifici non c'è nulla e oggi spesso molti giovani sono troppo accuditi dalle loro famiglie e non vengono aiutati a spingere nella vita, se sanno pretendere e non chiedere dolcemente lo spazio che loro spetta nella società adulta e in fondo infine se sanno fare la fatica di pensare perché senza pensare, senza la fatica di pensare non nasce un pensiero diverso. Grazie dottor Gentili, un saluto da Andrea Braga per MSG TV